Ciao da IMAX, oggi sono qui per presentarvi il nostro nuovo Master Pen Wireless, la prima stilo di casa IMAX interamente senza figli, che vi permette di liberarvi dal cavo di alimentazione. Questa Master Pen è adatta per il trucco permanente e anche per tutte le altre applicazioni quali tricopigmentazione, dermopigmentazione e microlip. È una penna semplice ed intuitiva con tutte le funzioni a portata di mano. Master Pen Wireless si presenta con un intuitivo display digitale dove viene indicato il voltaggio di utilizzo, lo stato della batteria, sono presenti tre tasti, uno per accendere e spegnere il dispositivo, uno per aumentare il voltaggio e uno per diminuire il voltaggio. Il range di utilizzo va da 5 ai 12 volt, quello consigliato è da 6 a 10 volt. La macchina è molto maneggevole, silenziosa e le vibrazioni sono molto ridotte. La stilo è realizzata in alluminio immunizzato nero palco, è veramente molto leggera, infatti pesa solamente 100 grammi, il diametro è di 23 mm e la lunghezza è di 142. La punta della penna è realizzata con queste piccole scanalature che fa un rischio di grip durante l'utilizzo. Master Pen Wireless è dotata di un innovativo motore da 12 volt con 8.000 giri e 3 watt di potenza ed è alimentata con una batteria a milioni di litio da 1200 mAh con un'autonomia di 6 ore di lavoro. La penna viene fornita di un comodo cavo USB-C per la ricarica che avviene rapidamente in solo 1 o 2 ore. È ideale sia per chi lavora in studio sia per chi ha necessità di spostarsi grazie alle sue compatte dimensioni e all'assenza dell'alimentatore. Per inserire l'ago è sufficiente prendere una cartuccia, inserirla e ruotare in senso orario, mentre per rimuoverla ruotando in senso anti-orario e tirando via. La regolazione dell'ago va da un minimo di 0 a un massimo di 3 mm ed avviene ruotando il puntale. La Master Pen Wireless è compatibile con i nostri aghi XB, aghi precisi e di ultima generazione, disponibile in tante configurazioni per trucco permanente, tricopigmentazione, microneedling e dermopigmentazione. Al loro interno sono dotati di una membrana che evita il reflusso del colore che andrebbe a contaminare la macchina. Master Pen Wireless è disponibile sul nostro sito web imaxshop.com. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci per telefono o tramite mail. Vi ringrazio per la visione e ad un prossimo video!